Quando siamo partiti con Fabio Guccioni che è stato l'ideatore di questa arena che ci ha lasciato due anni fa, naturalmente con questo progetto nel dire, vedrai Gino che alla distanza saremo ripagati. Realmente oggi dopo dieci anni, perché l'arena è nata nel 2013, dopo dieci anni possiamo essere soddisfatti di questa arena che è cresciuta paurosamente. Se pensate che da luglio-agosto abbiamo più di 50 serate, se pensate che il mese di giugno dieci scuole di danza si sono esibite all'arena BCC, perciò in tre mesi non dico che facciamo 90 serate, ma ne facciamo 75-80. Peraltro ce lo faccio a dire Presidente, qui si è parlato fa anno l'entrotera, ma in realtà è rappresentata tutta la regione, vengono compagnie da tutta la regione e quest'anno abbiamo la grandissima novità di una compagnia toscana. Sì esattamente, quest'anno il teatro di Montecatini abbiamo, dopo l'esperienza positiva dell'anno scorso dove venne un'agenzia di Roma e una di Pescare, naturalmente quest'anno ci hanno cercato da Montecatini, perciò vuol dire che la piccola Tre Ponti, ovvero Fano, bella città sicuramente, comincia a essere conosciuta. È plurale Fano, veramente offre tante opportunità, tanti contenitori e Tre Ponti vive una sua centralità, anche d'estate, non lo svolge già nel periodo invernale, pur non essendo vicino al mare. D'estate è chiaro che i luoghi vicino al mare sono forse più attrattivi, ma Tre Ponti con questa location, con le sue suggestioni, diventa un teatro all'aperto dove c'è tanta partecipazione, dove si dà la possibilità di esprimersi a cominciare dai gruppi teatrali locali, ma offrendo anche uno scenario internazionale con film importanti dell'inverno passato. Insomma, un'offerta veramente ricca che si va a integrare in quella che è l'offerta della città nel periodo estivo. Avere luoghi come questo, dove le persone si possono esprimere, significa dargli anche la forza e il coraggio di creare cose nuove. Ma non solo questo, perché a parte la rinnovata collaborazione con il Cinema Masetti, quest'anno una collaborazione con l'agenzia di Ancona che porterà addirittura qua Uccio De Santis, quindi un artista nazionale sul palco dell'Arena BCC, che potrà intrattenere tutte le persone che verranno a trovarci. Ma non solo, ancora il teatro di Montecatini Terme, che proporrà una serie di eventi che vanno dalla prosa, il musical, il comedy, il San Costanzo Show, una gara nazionale di breakdance. Insomma, veramente sono tante le cose che quest'anno si mettono in campo in quest'arena, che di fatto dà ancora più vivacità alla città di quella che non ha, che ha già una programmazione forte per esprimere le sue caratteristiche in tutto il centro storico, in tutta la zona mare, e che grazie a quest'arena avvicina anche tutte le persone che stanno nella vallata del Metaro e del Cesano, che grazie all'autostada possono arrivare bene in questo luogo sia da Senigallia che da Pesaro. Insomma, veramente un luogo che fa avvicinare le persone nella città, che ci fa conoscere meglio.